Diverse posizioni di classifica, diversi obiettivi ma recente passato comune. Nelle ultime tre sfide, solo tre punti per gli ospiti e zero per i padroni di casa. Derby Ligure per ripartire, serie D, Gironee, Ligorna-Sanremese, benvenuti. Diciassettesimo, angolo Ligorna, parte la sfera e Nappello vola! Incredibile coordinazione del capitano giallo-blu che trova l'incornata vincente. Padroni in vantaggio, è 1-0. Ventiduesimo, la Sanremese non ci sta, cross di Ligotti e Gaeta non può sbagliare! Tutto in cinque minuti, sfida di Zuccate in questo derby Ligure che torna sul pari e si riapre, è 1-1. Venti minuti dopo ancora Sanremese, lancio per Gagliardi, sponda per il solito Gaeta che però non impatta bene. Quarantaquattresimo, azione assolutamente confusa, Rebecca in area, cade a terra, ma la palla arriva a Chiarabini che non può sbagliare! Super Mirko segna ancora, grande fiuto del gol per questa marcatura di vera e propria rapina, è 2-1. Inizia il secondo tempo, i padroni di casa sono nuovamente in attacco, parte Barcella, mamma solo vola! Settantesimo, azione tutta di prima, Gaeta scarica su Palumbo che trova l'angolo vincente! Grande azione bianca-azzurra che riporta le squadre sul pari, è 2-2. Un minuto dopo Zunino viene espulso per questa entrata scomposta, Ligorna in 10 uomini. Ottantesimo, occasione clamorosa, Taddei per Gagliardi, filtrante per Palumbo che apre troppo il tiro! Novantesimo, cross per Gaeta ma Pulidori vola e devia in calcio d'angolo! Un minuto dopo anche la Sanremese resta in 10 uomini, espulso Taddei per proteste. Pareggio tutto sommato corretto che rende sicuramente più contenti i padroni di casa.